Salve a tutti ragazzi bentornati su Break2Player e eccoci qui con Civilization Beyond Earth siamo in una fase di ottimizzazione delle nostre risorse e possibilità attuali quindi non stiamo portando avanti produzioni o guerre o comunque cose secondarie che ci fanno sprecare risorse siamo appunto in un momento in cui cerchiamo di portare sulla produzione soprattutto scientifica e culturale perché vogliamo avere dei bonus in tempi rapidi quindi per adesso siamo nel turno 275 e passiamo il turno e poi daremo un'occhiata alle nostre produzioni anche perché fra un turno termineremo la riserva aliena che ancora non avevamo realizzato da nessuna parte a Santo Adria o poi fra tre turni la termineremo a mano e nel frattempo completeremo un reattore al torio che ci permetterà di portare sulla nostra produzione di energia per turno stiamo ricercando riserva macchine e ci daranno un punto a finita purezza oltre a una tuta da battaglia cioè la possibilità di costruire le tute da battaglia che cercheremo di sfruttare al meglio dunque scegliamo una produzione andiamo a vedere di fare un nuovo edificio a Santo Adria possiamo fare un centro di colonazione più una produzione a xenomassa uno slot da per coltivatore se no altrimenti potremmo fare un istituto che c'è da tre slot scienziata barriera ultrasonica per dicere l'unica genero questo non ci interessa la stazione di rancho invece potrebbe essere orbitale potrebbe essere interessante perché aumenta la copertura orbitale della città e Santo Adria si tratta di una città comunque di confine quindi essendo sulla costa quindi potrebbe essere buona però andrei più su un centro di colonazione anche se ci vorranno nove turni effettivamente un aumento della produzione di cibo potrebbe essere buono dunque questo robo qui è venuto qui a fare non so cosa sinceramente non mi ricordo per quale motivo l'ho portato da queste parti ah portiamolo un pochino qui vabbè facciamo fare questo e gli diciamo di saltare il turno ci sono queste unità militari della federazione slava che si muovono nel nostro territorio ancora non ho capito per quale motivo però lo stanno facendo vediamo di aspettare di nuovo il nostro turno nel turno del 277 e vediamo adesso anche ragazzi di imporci un pochino di più dunque come vedete i nostri migliori amici a quanto pare sono stati loro che sono venuti diventare nostri amici intanto possiamo... ok me l'ho posizionato lì lo ascello commerciale facciamoli fare la stessa rotta di primo con la chiesa della luce dell'alba e dicevo i nostri amici della... come si chiamano? come si chiamano? non mi ricordo protettorato di Cavitia sono quelli messi meglio in assoluto e hanno come vedete diciamo soggiocato un intero golfo da queste parti a livello di espansione territoriale se non siamo messi male perché abbiamo diverso territorio intorno dovremmo teoricamente anche chiudere con una città qui però ragazzi vi ricordo che abbiamo poca salute quindi dobbiamo cercare di tirare su soprattutto questa cerchiamo appunto di fare magari qualcosa da aumentare la nostra salute tipo un giardino di geni anche se ci vorranno 17 turni anzi facciamo una cosa da pochi turni tipo un centro di cirlaggio o un'officina no facciamo una riserva aliena e poi andiamo a comprare con il nostro denaro acquista un giardino di geni per portare la salute da 2 teoricamente a molto più su quindi se non è cambiato una cippa ok ma abbiamo effettivamente un giardino di geni in città giardino di geni più 3 salute forse dal prossimo livello dal prossimo turno ce lo farò vedere vorremmo un attimo se passiamo il turno e se andiamo a 5 spero di sì perché se no io costruisco gli edifici non so per quale motivo ah ok ci hanno condannato a tempo debito a paghera ormai con la cooperativa panasiati è tutto un insultaggio a vicenda quindi nessun problema era triste ma devo chiedere la tua assistenza e lo die gliela accettiamo volentieri perché ragazzi è nostra alleata proprio alleata militare quindi cerchiamo appunto di tenercela buona io non capisco come mai non mi vada su questa salute vabbè comunque è arrivata una gente a citadella l'avevamo messo qui a fare controspionaggio e vediamo di dunque l'operativa panasiati ha condannato lo sappiamo andiamo a fare la nuova produzione anche a mano e l'ha completato un'altra riserva aliena vediamo di fare un laboratorio di bionica salute più 20% no cerchiamo di tirare su questa produzione comunque vediamo di costruire una miniera qui e qui abbiamo già costruito una miniera invece vediamo abbiamo risorse importanti non sfruttate si questa portiamo qui il nostro laboratorio e vediamo di costruire una chiata facciamo un'altra volta a turno successivo io non so se effettivamente c'è qualcosa di buggato o no anche perché ragazzi purtroppo se vi ricordate dal non nemmeno allo scorso episodio ma addirittura due episodi fa non mi tornava una cosa delle meccaniche di gioco e ho visto appunto che sono state cambiate alcune meccaniche di gioco come quella del livello 1 della purezza e il livello 1 dell'armonia quindi sicuramente saranno cambiate un sacco di cose che io magari non so e potrebbe essersi creato qualche bug diciamo di compatibilità di un salvataggio creato con la versione precedente e poi aggiornato a quella attuale e micerebbero alquante coglioni sinceramente di questa cosa però posso farci poco dunque vediamo di acquistare una casella se almeno cerchiamo di tirare su subito la produzione di risorse particolari questo dovrebbe essere titanio esatto noi ne abbiamo zero per adesso questo è titanio ne abbiamo zero ma lo stiamo già costruendo qua dovremmo averne quattro una volta migliorate entrambe le caselle ci fanno comodo anche perché Vladimir Kozlov vuole diritto di passaggio per diritto di passaggio non ci va benissimo e vediamo un pochino anche perché Platin Kozlov senza diritto di passaggio praticamente tutte le sue unità se le ficca nel culo comunque Tiangong ha una bella forza e uh alleanza con alleanza va benissimo amica mia ok quindi siamo alleati della Franco Iberia questo dovrebbe anche spaventare un pochino la cooperativa panasiatica e cerchiamo appunto di decisione sulla missione intanto vediamo un attimino zoologia per lungo tempo le creature indigene di questo pianeta ci hanno dato problemi ma le cose stanno per cambiare ora che abbiamo una riserva funzionante potremo studiare gli alieni nel loro habitat naturale ciò che apprenderemo potrà essere sfruttato sulla nostra vita quotidiana non solo per essere più forti ma anche per proteggerci dai pericoli che dovremo affrontare sarà sufficiente introdurre nella riserva gli stimoli propriati e studiare i risultati quindi la resilienza degli alieni più 5 la cura di tutte le unità o le debolezze più inoscenza più in energia andiamo a fare più inoscenza e più in energia in questa maniera teoricamente i riserva alieni non hanno manutenzione ci danno cultura e scienza quindi molto buona come cosa e vediamo però di fare il turno successivo per adesso ragazzi devo continuare a mantenere un profilo molto basso perché non ho la possibilità di continuare a espandermi espansione necessaria ad avere una produzione economica e scientifica così alta da permetterci di affrontare una guerra quindi per adesso profilo basso abbiamo tutte le nostre truppe schierate qui tu costruisci una chiatta da queste parti tu vai a fare con ekima station ok e poi unità tende ordini guardiamo un attimino il nostro lavoratore che ha terminato questa cosa qui vediamo di acquistare anche questa casella qua e dunque potremmo anche addirittura andare da queste parti cosa c'è cos'è quello silice potrebbe essere interessante allungarci fin qua giù anche per tagliare le cambe un pochino all'espansione della della cosa là sotto vabbè per adesso vediamo dunque si divenire qui e poi faremo quella cosa lì turno successivo ragazzi questa salute non va su non capisco come mai 31 per le città 2 per le virtù 4 per le città e 9 per il livello di difficoltà 16 27 5 generata corde operazione con cavità tarkur dobbiamo rinnovare vedremo di rinnovarlo immediatamente quindi contattiamo cavità tarkur namaste 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 ninja accordo di recuperazione un'idea eccellente ok arrivederci quindi abbiamo stretto un accordo di recuperazione andiamo vedere un'unità cat time the ordine questa qui che abbiamo spostato prima facciamoli costruire una miniera anche te costruisce una miniera turno successivo abbiamo 5 turni per la ricerca di essere po' macchine ragazzi cerchiamo di tirare su la nostra cazzo di produzione scientifica ora vediamo anche magari dunque qui non possiamo presso che fare niente se non sbaglio possiamo fare un istituto lo stiamo facendo dell'unica cosa che possiamo fare praticamente santo adriamo cosa possiamo costruire ok stanno noi vabbè intanto vediamo missione aggiornata e vediamo se è successo è sorta un'opportunità per rispondere i nostri orizzonti commerciali un'organizzazione vicina alla libella sviluppate le pratiche di sintonia con le nostre stabilendo la rotta commerciale con loro incrementeremo tanto la produzione quanto la loro è una rotta commerciale con la libella ma ragazzi ce l'avevamo ah ecco ok la dobbiamo rinnovare quindi la libella andiamo a fare quindi questa missione più 20% di produzione con Akima Station per 20 turni quindi abbiamo un aumento della produzione di questa stazione grazie alla missione completata dunque 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 siamo in 1 di mala sanità non capisco per quale cazzo di motivo 48 30 della popolazione continuo a aumentare questa popolazione 8 6 12 14 vediamo ragazzi di acquistare allora degli edifici tipo laboratorio di ricerca saluti di bionica lo stavamo costruendo in questo momento però dobbiamo cercare di portare su facciamo il network a questo punto decisione sulla missione ok puro vantaggio decisione sulla missione i nuovi sviluppi nella fabbricazione di tessuti artificiali hanno spinto molti cittadini a chiedere degli innesti desiderano sostituire i loro organi con versioni più potenti e affidabili ok un upgrade diciamo del corpo umano intorno alla situazione degli organi sta rapidamente sviluppando un'industria privata questo potrebbe far risparmiare allo stato le spese dell'assistenza sanitaria anche se non sarebbe facile garantirne la qualità ok alternativamente una colonia potrebbe dichiarare la situazione di organi di diritto umano ok assicurando la sua disponibilità gratuita per tutti i cittadini quindi permettendo la privatizzazione guadagneremo energia organizza un programma tra accesso e un trollato otterremo scienza andiamo più 20 affinità verso pulizia 150 scienza ok abbiamo anche un punto 8 di affinità quindi 4 risorse piatta fluttuante gratuite aggiornamento disponibile per le nostre unità il nostro arm diventa un lanciere e gli diamo o più 10% per punti movimento non utilizzati più 20% in attacco direi un bene più 20% in attacco non è male ok quindi turno successivo siamo sempre a meno uno scusate questo produce 8 di salute 8 capisco 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 in pratica la resa in salute di una città non può superare la sua popolazione e questo è il discorso quindi noi dobbiamo tirare su la resa di queste città ma perché noi a non possiamo fare scusate che edificio abbiamo sito vivario clinica giardino di geni farmalab lancio vivario volevo cercare dunque che edificio abbiamo completato qui laboratorio di bionica richiede una fonte migliorata di resilina ok quindi è questo il discorso non possiamo esatto come questo qui potrebbe aumentare invece quindi potrebbe andare a 12 acquistiamo qualcosa che non migliore non abbiamo abbastanza soldi per farlo avremo come vedete un più 20% quindi riusciremo a portarla a massimizzarla diciamo ok quindi abbiamo 227 ci serve 840 guadagniamo 25 per turno vabbè comunque aspettiamo e vediamo di passare ancora una volta il turno siamo al turno 283 sono passati circa 10 turni dall'inizio dell'episodio la federazione franco iberia come cazzo si chiama la federazione franco iberia franco iberia chiamiamola e basta dunque livello intrigo a citadella diminuito è stata scoperta un'operazione segreta a citadella è aumentato vabbè è aumentato e diminuito di nuovo tu hai completato quello che ti avevo detto vieni qui e riculisci il miasma va vedremo di utilizzarli per ripulire il miasma ovunque visto che abbiamo pressoché completato le nostre migliorie vabbè nel frattempo comunque le nostre città andranno a aumentare di dimensione quindi teoricamente dovranno aumentare anche la nostra ci vorrà un po' per aumentare di popolazione il fatto è che per ogni punto noi quanti punti negativi di popolazione prendiamo 30 servomacchine ok grazie raggiunto livello 10 quindi nuovi aggiornamenti siamo già a livello 10 ragazzi dell'armonia della purezza caccia torpediniere ok da forza 6 distanza 24 va forza 16 distanza 36 più un punti movimento che abbiamo fatto un punti movimento andiamo a scegliere un nuovo beneficio più 20% l'attacco o più 5% più punti movimento non utilizzati questo potrebbe essere buono perché prendiamo più 20% quando stiamo fermi anche in difesa a parte abbiamo 5 punti movimento quindi secondo me si ci conviene questo abbiamo anche il rover lancia missile che diventa un punitore quindi forza 8 forza distanza 30 e poi andiamo a scegliere il beneficio più un punti movimento o due punti movimento o più 20% in attacco andiamo a fare più 20% in attacco vogliamo che sia una cosa pesante oh qua addirittura la porta aeree diventa un bastione più 18 forza forza 18 va a 36 più un punti movimento movimento 4 più una capacità come base aerea andiamo a scegliere inoltre un più 20% in attacco per tutte le unità aerea a bordo cazzo più 20% in difesa per tutte le unità aerea a bordo oppure più una capacità come base aerea andiamo a scegliere questo qui ragazzi aumenta la forza di attacco di tutte le unità a bordo quindi direi che è molto buona una cosa ok addirittura attrae potenziamenti andiamo a scegliere la nuova ricerca scientifica e andiamo a vedere cosa ci potrebbe convenire dunque il nostro consigliere militare ci consiglia biologia perché poi ci porterà a questa più un'energia da fattoria più uno cibo da fattoria e in effetti ne abbiamo diverse di fattoria quindi potrebbe convenire altrimenti robotica in 6 turni ci facciamo il tacjet che mettiamo su una porta aeree potrebbe essere interessante scegliamo la nuova produzione qui a santo adria laboratorio di bionica ah ok non abbiamo una fonte di resilina pensavo di poterla ah non l'abbiamo migliorata eccola qui eccola qui dunque e perché pulisce il miasma non la viene e vi a migliorare questa vai e costruisce un bel recinto non so effettivamente in che siamo dentro al nostro territorio si si come vedete siamo dentro al territorio di santo adria quindi potremmo costruire un bel farmalab o quello che si chiama laboratorio di bionica possiamo fare un istituto possiamo fare un reculso di miasmatico possiamo fare un cacciatore di nere possiamo fare un bastione 11 turni facciamo un bastione 11 turni ragazzi vogliamo una cazzo di porta aeree perché è figo perché si non devo giustificarmi per voler fare una porta aeree sono figo le porta aeree ok vediamo di passare il turno turno 286 ne arrivo e lo dia è completato la forgia colossale agente se vedete in attivi grazie vediamo se è successo missione ruba tecnologia fallita agente scoperto merda dunque scusami dove ah tiangong ok quindi andiamo a scegliere ruba tecnologia un'altra volta lasciamolo qui e andiamo a vedere dunque lo dia è completato la forgia colossale le missioni aggiornate andiamo a fare tanto la decisione sulla missione possiamo ricostruirli fra i nostri cittadini c'è chi condanna questo nuovo laboratorio di bionica ma tali obiezioni non sono destinate ad avere seguito la bionica fa parte del futuro questo non possiamo ignorarlo se lo facciamo finiremo con l'esserne consumati se invece lo accettiamo possiamo guidare il suo utilizzo in modo tale da non mettere in pericolo i nostri ideali e il nostro stile di vita questo non è quello che i detrattori vogliono sentirsi dire ma è la verità quindi uso limitato la ricerca scientifica più uno scienza o uso il limitato aperto a tutti più uno cultura io direi più uno scienza ci prendiamo più uno scienza ok il nostro agente non riuscito a rubare bla 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 nuova produzione a Dourado Dourado che possiamo fare addirittura al laboratorio di bionica perché abbiamo una risorsa di resilina però non non possiamo non avrebbe senso quindi cerchiamo di tirare sulla sua popolazione perché più cresce la popolazione con un vivarium magari più uno ci va al deserto allora era il vivarium non era il cito vivaio il cito vivaio era da palude il vivarium ma allora io pensavo che mi avevano cambiato le carte in tavola invece sono duro io quindi facciamo un set in the ordinary questo convoglio commerciale e andiamo a fargli rifare la rotta con calabrost e ok siamo pronti no passare il turno non è vero si siamo pronti passare il turno quindi il turno successivo aspettiamo di vedere cosa succede sembrerebbe niente potenze minori quindi sta a noi abbiamo solo una produzione terminata andiamo a vedere dove è terminata questa produzione dunque dove siamo a Sidadella ok ragazzi Sidadella ha fatto questa cosa di fare un bel repulsore smiasmatico perché essenzialmente mi girano anche le palle a costruire insomma mettere la produzione inutile diciamo a Sidadella quindi facciamo il repulsore smiasmatico lui ha fatto questa dunque il repulsore smiasmatico lo potremmo usare qui e levare queste mentre qua si qui lo facciamo in maniera manuale quindi portiamo un lavoratore qua e facciamo turno successivo tanto ci vorranno solo tre turni a fare qualcosa e vediamo di aspettare uno di mala sanità ragazzi così adesso dovrò occuparmi sia di te sia della Franco Iberia avrei dovuto mettere un freno a questa minaccia tempo fa mi toccherà darvi una bella lezione a tempo diviso la pagherai cara l'operativa ah come vedete hanno condannato anche la Franco Iberia ragazzi la minx social presenta un problema per noi uno di quelli si può risolvere solo con la guerra sto cercando alleati posso considerarti come tale minchia dacci di acetoni per prepararci mi compiace tutto ciò ok ragazzi quindi entro dieci turni dovremo digerare guerra alla Franco no alla cooperativa panasiatica abbiamo una nuova virtù intanto dunque avevamo preso questa più 10% di produzione diretta dagli edifici più un'energia da ogni risorsa base più 5 energia nella capitale più 15% produzione per la costruzione meraviglie altrimenti possiamo andare a prenderci più 50% di quantità delle fonti strategiche però più un'energia da ogni risorsa base direi che ci va benissimo perché comunque abbiamo un discreto bonus anche perché avremo questo qui è fra poco quindi bonus energia questo qui per ottenerlo ci sarà un bel po' questo qui ci interessa il giusto comunque per adesso a parte con il prossimo livello potremmo fare l'azione bomba sporca che era l'azione finale degli agenti segreti e potrebbe essere interessante farla non è che ci dispiaccia però siamo ancora in fase arretrata della partita quindi no ragazzi come vedete qui possiamo anche iniziare a portare avanti le nostre unità noi abbiamo queste unità qua e basta fondamentalmente e stiamo costruendosi una corte aeree quindi intanto loro hanno queste unità quindi il loro attacco se viene portato viene portato a questo rato qua dunque la guerra non cambia mai come sappiamo tutti quindi io direi di portare avanti queste nostre unità in questo turno verso il fronte con la cooperativa con asiatica e iniziare appunto ad avanzare in questi confini dunque il nostro punitore in una modalità movimento come vedete non riusciamo ad avanzare quindi non fare nulla per questo turno facciamo il turno successivo turno 289 te sei tornato indietro non so per quale motivo ah si perché ti trovi un pochino tutto tappato come vedete ragazzi c'è diversa roba che minaccia la Franco Iberi io direi di metterci non in seconda fila ma in poi in prima e un po' in seconda fila vi spiego perché se ci mettiamo totalmente in seconda linea con le nostre unità probabilmente ci beccheremo gli attacchi di contraattacco della cooperativa panasiata che questo non ci piace dunque repulsore miasmati andiamo a lanciarlo e cerchiamo di levare il ritorno esatto questa zona quindi lanciamolo da queste parti ok levare il ritorno il miasma il livello di trigo è aumentato a 1 scegliamo la produzione a citadella possiamo fare un altro repulsore no tutto da battaglia in 5 turni facciamolo facciamo il turno successivo ritorniamo alla visuale normale quindi non vogliamo prenderci i danni del contraattacco naturalmente ma vogliamo cercare di la cosa migliore sarebbe conquistare la città quindi si far parte sia del fronte d'attacco magari potrebbe essere interessante prendere noi Tiangong e Lei Niantic non ci guardano sai questa cosa ok abbiamo la robotica ragazzi decidiamo una nuova ricerca e andiamo a fare genetica aliena più una cultura del biopozzo più una scienza del pozzo di xenomassa oltre a un punto affinità altrimenti abbiamo visto che l'agricoltura verticale non era male ingegneria dei tessuti più 10 oppure tutte le unità affinità armonia a livello 2 non otterremo niente meccanotronica fabbrica lev fabbrica lev non è male ambulatorio questo no una forgia colossale più 25 protezione per noi meraviglia altrimenti più uno con questo vedremo il caro armato lev che non è male ma scusate l'istruttore lev dovrebbe essere una gigantesca piattaforma assalto presentemente armata e levita sopra il terreno che si permette di attraversare canyon e specchi d'acqua potentissima attacca a distanza utile anche in comunità d'assedio forza distanza 74 forza 50 raggio d'attacco 2 5 pietra fluttuante ma questo è l'equivalente delle unità finali delle altre cose è tipo questo penso di sì perché richiede la stessa quantità di di risorsa specifica dell'affinità quindi penso di sì questo è l'angel è nato c'è da adesso un'altra unità per noi leva di archimede no questa non è assolutamente un'unità muore profonda fino a 2 virtù gratuita voglio dire fino a 2 va bene non ah è forse questa è Aegis ah sì 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 era questa qui lo conosciamo questo più ok va bene comunque direi di scegliere biofabbrica questo no andiamo a vedere quelle più vicine al centro che non abbiamo fatto tipo sistemi autonomi controllo centrale e nodo oppure liste di Marco ed equazione trascendentale no intelligenza artificiale pull a check e rete di sorveglianza comunicazioni su nodo tacnet centro di comando nodo informativo il vettore non mi gabbano queste ricerche non sono un grancho ingegneria civile olomatrice più dura cultura è finita purezza vai 15 turni ci faremo questa ok ok scegliamo la produzione in due luoghi manual facciamo fonderia di leghe più due produzione a titanio richiede una fonte di titanio va bene e l'altra dorado cerchiamo di tirare sulla produzione di cittadini perché vogliamo aumentare la salute ok tu puoi venire no 17 turni magari no però vabbè non voglio lui annulla l'ultima missione ok tu sei venuto qui e cerchiamo di tirare sul cibo di questa città quindi più due cibo con un abito terrestre o più uno cibo quindi un abito terrestre cerchiamo di ricostruire l'abito della nostra vecchia terra in questo luogo dunque i nostri marine la nostra sentinella possiamo portare avanti questo qui gli facciamo per adesso soltare il turno abbiamo bisogno di avanzare un pochino non so quanto quanti turni sono passati dal nostro dichiararci alleati della Franco Iberia comunque iniziamo già a studiare le tattiche di attacco ragazzi perché il fronte praticamente sarà solo esclusivamente quello almeno per quanto ci riguarda abbiamo degli aggiornamenti perché siamo giunti questo è già su progresso affinità 1 ok quindi abbiamo un aggiornamento disponibile per il needlejet ah no perché abbiamo sviluppato quest'unità quindi da attackjet fu attacco a distanza 10 andiamo attacco a distanza 16 per una ragione d'azione più 20 quando esegue una distruzione di difesa antire più 30 quando esegue intercettazione più 15 con unità terrestri navali andiamo a usarlo come unità di attacco quindi questa qui e non abbiamo altri aggiornamenti quindi fine unità tende degli ordini abbiamo anche una spia inattiva quanto pare catalina gente speciale andiamo a fare trasferisci energie abbiamo bisogno di denaro quindi cerchiamo di fare questa cosa e vediamo un attimo cosa succede qui rubate tecnologia ah no il disegno del rubate tecnologia quello ok tecnologia rubata gente scoperto ah ecco abbiamo rubato quella tecnologia quale scusate scusate abbiamo rubato una tecnologia qui a questo ma non ci avevo nemmeno fatto caso pensavo che fosse quella di prima vabbè niente sto rincoglimento unità tende ordini questo marine dunque con questo possiamo andare ad avanzare no 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 voi siete scemi siete ok con questo marine possiamo andare ad avanzare di qua invece con questo andiamo ad avanzare qui può ancora muoversi mettiamo in acqua e con questo marine possiamo avanzare qua ok quindi turno successivo abbiamo schierato diverse forze abbiamo i guardiani che ci riteniamo dietro per adesso che comunque se insomma le cose oh ma noi abbiamo boaba questa sarà tipo la prima unità a cadere però ragazzi ci porteremo dietro un coso un rover lancia missile spedizione completata ah ok questo è successo mentre non controllavamo 244 cultura molto buono quindi 10 turni per la prossima virtù tu vieni qui tu vieni qui eccoci tu vai di e passiamo il turni tu stavi bene qui vabbè per ora vieni qua sopra facciamo turno successivo ok guardiamo se il miasma è stato rimosso no è stato rimosso dove vai visuale dove vai visuale fermati utama i nostri popoli condividono uno stile di vita degli obiettivi comuni soffresci questa unità di intenti impegniamoci per rafforzare questo legame ok ragazzi anche utama quindi vuole far parte del gruppo di amici utama che ci sta dando le paste con il punteggio come vedete amiche volete passaggio per dirvi passaggio nessun tipo di problema e vediamo di ekima station sta subendo un attacco da parte della franco di vera ragazzi ma cosa fanno questi vengono ad attaccare la cooperativa panasiatica o no dunque andiamo un attimino allora abbiamo un'allianza di terza finita non non c'è molto da dire in questo momento vabbè comunque con le nostre unità qui andiamo a pensare qua davanti con le nostre unità qui andiamo a facciarci qui sul mare diciamo tu hai completato questo adesso vieni a rimuovere il miasma da questa casella un turno ottimo per sprire le strade tu vieni qua qua ok turno successivo carita parkour ha completato la dronosfera ragazzi mi sa che questa partita non la vinciamo comunque la cooperativa panasiatica ha deciso che vuole morire perché è condannato noi franco iberia e polistralia deciso che tutti contro di lei praticamente e è lo stato con meno felicità dunque abbiamo notato che ti sei messo a ricerca i resti ma lo fatti vicino ok la tua no non volevamo offendervi cerchiamo di non peggiorare rapporti con altre potenze un esercito così debole non c'è da stupirti dal tuo colonio non sia ancora stato travolto dell'anieno tempo debito la pagherai cara e viene lanciata un'unità satellitare della allora è lo di rappresentante problema per noi uno di quelli si può risolvere solo con la guerra scusa questo accordo non ci interessa ho capito siamo alleati discorsi fai commercio chiedo scusa forse allora sganciamento all'orbita imminente per reputore miasmatico si fateglielo ripare il miasma spero comunque ce nemmo la produzione a si da della possiamo fare una fabbrica automatica produzione più due più energia rotta commerciale internazionale slot specialista ingegnere unità tende ordini questa qui che come vedete ha di fronte un altro marine sono schierati qui all'interno del loro territorio stanno cercando di passarci ragazzi come vedete vediamo di tappare questi vogliono passare da sotto oppure vanno a attaccare loro non lo so dunque questo qui lo possiamo io direi riuscire a fare un eseguo all'estimento per attacco a distanza vediamo se riusciamo qui per esempio riusciremo a attaccare però non vogliamo farlo per adesso naturalmente un intertende ordini questo marine lo vogliamo portare qui due turni lo faremo te per adesso non fare nulla in questo turno te non fare nulla in questo turno io ragazzi ho paura che l'ode non partecipi in maniera attiva alla guerra comunque abbiamo la tutta da battaglia il nostro centurione come gasano come gasano però non so effettivamente mi avete consigliati per gli assedi ma non so perché siano buoni per gli assedi vabbè proveremo allora turno 296 arrivo guardiamo in che direzione si muovono verso sud ragazzi ok vanno ad attaccare a franco iberia quindi quindi potrebbe essere la nostra occasione per attaccare tm gong tm gong a sidadella possiamo eventualmente acquistare delle unità dunque da qui possiamo ah possiamo attaccare anche questa ok qui noi abbiamo due marine tre marine uno di questi una tutta battaglia che sta arrivando aspetta per adesso non vogliamo selezionarti vogliamo selezionare loro tutta la battaglia sta arrivando dicevamo quindi portiamo più vicina una porta aerei quindi vediamo ragazzi di acquistare io direi un altro eh no non abbiamo abbastanza soldi un punitore era buono cazzo 900 un punitore un niedergetto non ce la facciamo comunque quindi lo mettiamo a dormire questo ragazzi ci potrebbe far comodo dichiarare guerra adesso Elodie questo si prenderà un sacco di danni splitteremo però la sua forza di combattimento sentiamo no Elodie faccio sempre il casino Elodie salve di nuovo discussione dobbiamo dichiarare guerra un vero di vin per cominciare questa villa abbiamo quindi abbiamo già diciamo un accordo in qualche maniera altri giocatori dichiarare guerra Le minsocio cosa vuoi in cambio no facciamo una cosa altri giocatori dichiarare guerra Le minsocio per dio come si ci siamo proprio cioè ti scusami ci hai chiesto di prepararci ad entrare in guerra va bene arrivederci passiamo al turno ragazzi perché non mi piace l'atteggiamento della signorina dunque il laboratorio è di Bion quindi lo facciamo adesso te salta il turno te salta il turno te salta il turno turno successivo turno 297 penso che la guerra partirà prima della fine di questo episodio ragazzi questi potrebbero anche spuntare all'improvviso qua sotto infatti questo è andato qua però se noi vanno attaccare l'uscita della franco iberia almeno questa è la speranza probabilmente ragazzi ci verrà anche una notifica nel momento in cui non ci sono neanche un'area sembrerebbe c'è il numerino sopra forse non c'è più mi sa che ora l'hanno nascosto i numeri sopra questi aggiornamenti ci sapisce una sega quando fanno questi aggiornamenti dunque tu non fare nulla non fare nulla non fare nulla te sei venuto qui hai completato il tuo coso vieni qui a rimuovere il miasma te hai completato quello bravo bravissimo adesso qui non c'è il miasma vieni qui ci possiamo andare sulla produzione di cibo non fare nulla possiamo anche buttare giù questo repulsore miasmatico è come il nostro robo ma per adesso no dunque tutta la battaglia vieni vai vieni qui per adesso devo dire e salta questo turno ok ti porteremo qui se è possibile se la franco e barra ci farà spazio penso che mi sembra forse era il turno 289 ragazzi quindi 10 turni per prepararci scadranno nel turno 299 questo vuol dire che ci arriverà una notifica ok stanno rimandando indietro delle unità è giunta l'ora perfetto avanti facciamolo dichiara guerra si però magari non volevo prendermi l'attacco nel viso ok invece stanno perfetto quindi con questa unità qui andiamo subito a fare un bel attacco a distanza su questa unità qua ok abbiamo tipo sterminata dunque con questa tutta da battaglia ce la facciamo a farla avanzare almeno fin qui questa unità non è il caso di avanzare però adesso con questa con questa sentinella di brasilia andiamo attaccare questa non riusciamo a vincere comunque abbiamo delle unità molto avanzate rispetto all'avversario ragazzi quindi riusciamo a fare molto danno ti viene qui a reculire il miasma ok ti ho fatto già reculire il miasma quindi vediamo di ritirare sulla produzione di cibo come bella vi satterresti più uno aspettate più uno mentre la patria più uno più tre facciamo più uno sì 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 dunque te cosa c'è qui un vascello commerciale torna a commerciale con la chiesa della luce dell'alba qui ok e dunque ha dichiarato guerra da him in socia e lo di ha dichiarato guerra da him in socia unità con gli ordini questo marino portiamolo di qua e direi che ci siamo turno successivo guardiamo ragazzi la risposta della cooperativa panasiatica abbiamo allargato le nostre unità in maniera che teoricamente se ci hanno chiesto di dichiarare guerra con loro anche la franquidaria vuole colpire spero che succeda questa cosa 26 danni ci siamo presi eh ho chiesto spero lì non so se è desisto ok l'operativa panasiatica ha fatto il suo turno ok stanno ok stanno attaccando con la franquidaria da sud quello è un penso un robot da combattimento della franquidaria versione figa ok anche l'alien sono dal nostro lato la franquidaria non ha fatto molto qua su nel nord e questo ci attrista un sacco ok comunque unità veterana quale sarebbe questa perfetto possiamo curarla possiamo dargli un bonus io direi di curarla per vedere di conquistare questa casella allontanarci così dal bombardamento della città venite ci riprenderemo con calma dunque con questa via andiamo a attaccare questa qui con un bel attacca di stanza stessa cosa faremo poi per levare torno del tutto l'unità la tutta battaglia può avanzare fin qui che cazzo di giro ok si imbarca e ragazzi qui facciamo avanzare quest'unità fino a qui direi con questo lavoratore qui costruiamo un bel habitat più uno si l'habitat terrestre ci conviene e te per adesso fai saccheggia questa casella ok quindi unità tende ordini questa qui per adesso fai fortifica guardiamo se riusciamo questo lo potevamo saccheggiare però effettivamente vabbè turno successivo guardiamo la seconda risposta della guardia guadagno favore per pietra fluttuante 3 va bene ragazzi cerchiamo di fornirne uno a testa di favore non di più non riusciamo tanto a far riguadagnare per bene oh mio oddio perché si è passato con un esercito mostruoso tipo qui ci stanno attaccando con un rover lancia missili e qui ok qui la nave ci ha già attaccato prima guardiamo se la franco iberia però ragazzi fa qualcosa interessante eccoli qui ok stanno avanzando stanno avanzando e stanno attaccando no stanno solo avanzando per adesso non abbiamo una partecipazione molto attiva da parte la franco iberia a questa guerra per adesso però come vedete qui siamo in grado di dunque con questo qui siamo in grado di passare le montagne non penso no come vedete no dunque vediamo di spostare questo qui in questa direzione qua con questo andiamo a saccheggiare e allontanarci adesso andiamo a entrare con questo questo cos'è un un incrociatore questo possiamo io direi anche saccheggiare no non possiamo saccheggiare perché non ci sono miglioramenti però volevo dare un'occhiata anche all'unità qua sotto ok 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 non è male la situazione ragazzi a parte questa cosa va dietro che ci spaventa un po' dunque tiriamo fuori la tuta la battaglia dall'acqua e ragazzi siamo al turno 300 quindi siamo all'inizio a metà abbiamo avviato questa guerra con la cooperativa panasiatica vedremo nel prossimo episodio di affrontare insomma la vera e propria guerra vogliamo conquistare quella cazzo di Tiangong dall'inizio della partita che lo diciamo e penso che sia giunto il momento di farlo anche perché siamo abbastanza in basso nella classifica del mondo quindi conquistando Tiangong potremo definire la nostra sfera di influenza tagliare diciamo il mondo qui e poi piano piano riempire anche questi spazi vuoti che ci sono qua sopra ragazzi come sempre se il video vi è piaciuto mettete un piaccio lasciatemi un commento ed iscrivete a Break2Play un saluto a tutti da Nicolas ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti